Dottor Rinner, il problema dello spopolamento è nelle Dolomiti abbastanza circoscritto soprattutto nella regione Veneta. Per quanto riguarda invece l'Alto Adige, durante la sua relazione ha parlato soprattutto di un modello più che altro extraitaliano, cioè quello tedesco e quello austriaco. Ce ne può parlare meglio? No, noi ci siamo più abbinati al modello austriaco nel senso che siamo sempre stati attenti alla zona montana, al sostegno alla zona montana, all'agricoltura, al turismo, alla cooperazione tra questi due settori. Abbiamo praticamente fatto una politica centralizzata sul mondo alpino, sull'arco alpino. Lì, quando si va in Alto Adige, si vedono i risultati dappertutto. Abbiamo avuto successo e adesso dobbiamo fare in modo che questa politica continua anche in futuro. Soprattutto l'importante è che ci siano i posti di lavoro. I posti di lavoro ci devono essere anche all'fuori dei centri, anche nel spazio rurale ci devono essere i posti di lavoro. E lì, naturalmente, l'agricoltura copre un ruolo importante anche il turismo e anche l'artigianato. Per esempio, in Alto Adige si è sempre fatto in modo che le zone artigianali si siano insediate anche nei centri più piccoli, fuori, che i posti di lavoro ci siano anche nella periferia e non soltanto nei grandi centri. Così, quando uno ne trova il lavoro vicino alla casa sua, ce la fa anche a lavorare la sua azienda agricola in part time e nello stesso tempo guadagnare soldi che ce ne ha bisogno nella fabbrica o nell'artigianato dove ha trovato il posto di lavoro. Sì, l'agricoltura in Alto Adige, soprattutto nelle zone dolomitiche, è strettamente legata alla politica per il turismo. Lì l'agriturismo è un punto di forza dell'Alto Adige. Abbiamo più di 2.000 aziende agricole che offrono la possibilità di pernotamento al marzo e questo naturalmente fa sì che c'è una fonte di reddito aggiuntiva che ne abbiamo assolutamente bisogno sui nostri piccoli massi in alta montagna. In quest'ottica il riconoscimento UNESCO ha cambiato qualcosa nelle vostre politiche, nella vostra programmazione? Nel lavoro dei contadini non ha cambiato molto, nella nostra strategia di marketing ha cambiato. Noi naturalmente abbiamo colto questa possibilità, questa chance e adesso cerchiamo di contattare, anche di visibilizzare questa possibilità di questa unicità che c'è nelle dolomiti e inserirla nel nostro concetto di marketing. Naturalmente abbiamo una strategia, questa strategia è la cooperazione. Noi lavoriamo tantissimo, l'agricoltura in montagna e l'agricoltura in Alto Adige lavora molto in sintonia con il turismo, con l'artigianato, con tutti i settori. Questo è un punto di forza e lavoriamo naturalmente con il nostro baisaccio, con la nostra natura, cultura e naturalmente il patrimonio UNESCO qua è una nuova chance che sicuramente saremo in grado di cogliere. Unendo tutte queste risorse, possiamo dire che l'Alto Adige diventa il capofila per il non spopolamento delle Alpi? Le cifre dicono così, le cifre dicono sì che l'Alto Adige è la regione nell'arco alpino che soffre di meno dello spopolamento negli ultimi 30-40 anni. Naturalmente questo successo non viene da nulla, però avviene da una politica centrata sul mondo rurale e lì sicuramente anche in futuro dovremo stare attenti che questa politica non cambi troppo nel negativo diciamo così anche che in futuro ci siano anche i soldi necessari al sostegno della nostra agricoltura, al sostegno del mondo rurale e al sostegno delle zone che sono fuori alle zone, alle città, alle zone naturalmente dove c'è reddito. Nelle città c'è tanta possibilità di reddito, nelle zone rurali questa possibilità la dobbiamo far crescere. Nelle città 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 città,